Mi chiamo Fabrizio Pedrezzari, sono di Milano e sono venuto qui a Shanghai Per un motivo, perché mi hanno invitato degli amici, mi hanno proposto l'offerta fatta da Absolute L'ho trovata molto interessante e mi sono molto divertito Devo dire che è stata un'esperienza molto bella Sicuramente dal punto di vista lavorativo è stato professionalmente in crescita Sicuramente di prospettiva che mi ha aiutato molto a crescere nel settore in cui ho lavorato Quello dell'investment A Shanghai, metto che non me l'aspettavo così È stata una città fantastica, stupenda Sicuramente ci devo ritornare perché le persone soprattutto molto aperte, disponibili, simpaticissime La vita che sicuramente è fantastica, piena di locali Non me l'aspettavo così molto europea a livello di entertainment Quindi sicuramente quello che mi è piaciuto di più è stata la gente, prima di tutto E poi tutto quello che ci può offrire Shanghai, che è una fantastica città È fantastica Sicuramente i miei amici, prima di tutto La città di sé E l'atmosfera che si crea soprattutto di sera o nel weekend, che è veramente unica Credo che sia una compagna fantastica Molto bella organizzata Sicuramente hanno trovato con ottime prospettive di crescita nel futuro Soprattutto a livello di opzioni lavorative che possono offrire Sono molto varie E diciamo che in base al mio curriculum Diciamo che l'hanno scelto al meglio per me E diciamo che è un'ottima compagnia Sicuramente negli anni può veramente dare molto Grazie a tutti Grazie.